E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di recensione più doppiaggio Quest'oggi parliamo di un film che si chiama Black KKKK's Man Cioè No, Black KKK's Clan Che praticamente sarebbe Il KKK che sarebbe del KKK's Clan, no? Parla del KKK's Clan, cazzo Ci siamo capiti Partiamo con trama, personaggi e obiettivo E praticamente trama è figa Figa in culo Cioè io ve lo dico In media a me piace guardare i film dal punto di vista dei cattivi Perché? Perché non è quello che farei nella vita reale Quindi mi piace certe volte guardarmi appunto anche film in cui succede un po' il male Tra virgolette Ci sta Secondo me ti dà la stessa soddisfazione anche di veder vincere il bene Però dopo un po' che vince il bene diecimila volte ti rompe il cazzo Ecco qui Invece Vince il bene Però è proprio figo Cioè è tipo bastardi senza gloria Un pochino ma 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 In alcune cose è anche un po' meglio In altre peggio Sicuramente Per carità Praticamente si parla di questo ragazzo nero Che viene Sono gli anni sessanta mi pare Viene Fatto praticamente poliziotto Perché? Perché negli anni sessanta Non so se lo sapete Ma in America Si sono accorti di essere nazisti Anche loro hanno fatto tipo Aspetta un attimo Ma non è che abbiamo sbagliato parte nella guerra E poi hanno detto No vabbè Allora Per non essere ipocriti Anche se lo sono Hanno detto Vabbè Dai Allora Diamo gli sti diritti dopo Due guerre mondiali Che vengono combattute da metà del nostro esercito Che sono neri Magari un po' A un po' di neri No? Facciamoli stare un po' meglio nel nostro paese E quindi E Beh Praticamente Lui è uno dei poliziotti scelti Per essere poliziotti neri E per dire Ah Includiamo Vedete c'è un poliziotto nero Ah ah Mentre comunque Continuano tumulti C'è sta anche Una Un'organizzazione per The black people Che poi diventerà praticamente La L'organizzazione di Di coso Di Martin Luther King No? E così via E' la cosa divertente Che però Allo stesso tempo Se c'è Un opposto Quindi L'organizzazione dei neri Che vogliono i diritti Ce ne Ce ne sarà un altro E quindi si ricrea Si ricrea il Ku Klux Klan Che era già stato creato Agli inizi del novecento Però adesso Si ricrea E Per chi non lo sapesse Il Ku Klux Klan Sono quelli con i cappucci bianchi Che non è che gli stanno Molto simpatici Invece i neri Ma non solo i neri Ovviamente Qualsiasi cosa Non gli sta simpatica In quel momento E che sia un po' Diversa da Più o meno Il mio pallore Nobiliare Come potete vedere Io starei a posto Per fortuna Però Ecco ci stanno altre persone Che non hanno La mia stessa fortuna E lui Essendo diventato poliziotto Dopo un po' Che l'hanno messo in archivio Dice Senta Capo Io Me sono rotto il cazzo Quindi mettetemi a fare qualcosa È un po' come Jump Street Che ho già Che ho già Recessito Però qui seriamente Io fanno tipo Ma lo sai che c'è Demandiamo all'intelligence Tanto Non c'è stancazzo da fa' Stiamo appena Nel dopoguerra Che ci frega E niente Praticamente Viene buttato Ventre a sti intelligence Che doveva tenere d'occhio Il Ku Klux Klan A dire la verità No Comunque ci sto pensando Non doveva farlo Doveva fare Un cazzo Però lui Sente del Ku Klux Klan E trova tipo Il numero sul giornale Perché sì Ragazzi Si poteva tranquillamente Trovare il numero Sul giornale Per un'associazione Una setta Possiamo dire Praticamente Di gente Che bruciava Le croci per strada E anche le persone Erano altri tempi Molto divertente Però E Praticamente Lui Li chiama Si finge Un bianco Che poi Non c'è bisogno Di fingersi Però Fa ridere Perché nel film Poi se lo guardate Capite perché ho detto Fingersi E quindi Si finge un bianco E gli fa tipo Oh ma io voglio entrare Nel Ku Klux Klan E tutto il resto E si infiltra Nel Ku Klux Klan E praticamente Tutto il reparto Degli intelligence Gli va dietro E E niente Si mette lì A fare Cazzi e mazzi A vedere Nello stesso tempo Va anche a spiare Quelli che invece Fanno Le cose Dei neri Perché Comunque Va tenuto Sotto controllo Anche quello Nel frattempo Si innamora Di una Delle tizie Cape Desta St'organizzazione Pro Pro Ai diritti Dei neri E Non poteva mancare E niente Praticamente Fa un po' Il doppio giochista Tra virgolette Cioè nel senso A dir la verità Stata Dalla parte Dei neri Semplicemente Che Deve comunque Tenerli sotto controllo Per evitare Che ci siano tumulti O cose varie E Eccetera E niente Però la cosa divertente È che Tutto il film Ovviamente Non si svolge al telefono Quello ci deve andare Lì di persona E poi va tipo Ah regà Aspettate un attimo Ma Ma io sono nero Non ci posso Andare Ma ammazzano E quindi Incastra praticamente Un Suo amico Che ragazzi È il nostro Big Big Topo gigio Che fa praticamente Il figlio di Comunque come cazzo Si chiama Ben solo Di Di star wars Che Secondo me È un attore Veramente Cioè io non capisco Che dice che è bravo Che cazzo Dite Vaffanculo Vabbè comunque Praticamente Lui Veste I suoi panni Di persona E quindi È lui a dire da verità Andare a fare la spia Mentre Il nostro Protagonista Si occuperà Solo delle chiamate E niente È divertente Perché poi Insomma Racconta come È stata sventata La minaccia Del Cuckoo's Clan Che Se non ve ne siete resi conto Ma in effetti Ci potrebbe essere Qualche dubbio Stavo per dire Che se non ve ne siete resi conto Dovrebbe essere stato sconfitto Ma Beh no In America C'è ancora un bel po' Un bel po' Di gente Che secondo me Potrebbe farne parte Però Vabbè Io direi che la trama È tipo Secondo me Spettacolare Poi è quello che proprio piace a me È un misto di storico Poliziesco Suspense È divertente In alcuni momenti Veramente un film Da paura Ve lo dico Da paura Per me Trama Assolutamente No Ve lo dico Personaggi Beh lui Il nostro Blacksman È Veramente Fichissimo È Devo dire Il solito Nero afro Che parla con lo slang Un pochino Però Però ha comunque studiato Sveglio E Molto figo Molto figo Il suo amico invece È Un ebreo Che Poi è lui È un po' Fighetto Però Fa quello un po' più composto Un po' Così Ah e poi di mezzo Mi pare che ci sta anche Come cazzo si chiama Quello che ha fatto Le iene Vabbè Comunque Non è importante Non è un personaggio Chissà quanto Importante Poi Tra i cattivi Ci stanno Tre tizi E Un tizio Che tipo Lo fa entrare Gli dice Bello frate Mamma mia Ci serve proprio gente Come te Mamma mia Qui ci divertiamo Gli facciamo esplodere La capoccia Quelli Così Capito E Un altro tizio Che invece È tipo Iper A distanza Che non si fida di lui Fino all'ultimo Tant'è che poi Cioè insomma Gli rompe il cazzo Oppure Perché deve Stare da torchiare Per capire Se è una spia Spoiler Beh noi sappiamo Che lo è Però E quindi aveva ragione E poi c'è il capo Proprio del Ku Klux Klan Che lui riesce ad avvicinare A farci anche amicizia Al telefono Perché comunque Era uno Un po' Un po' Tonto Sinceramente Perché Vabbè E personaggi Io direi Un bel Un bel set Te dai Ci può stare Mentre l'obiettivo È portare Un film del genere Che però Fosse anche figo Che non ti annoiasse Ma che allo stesso tempo Non ti facesse Insomma Cioè Non è né troppo Né troppo poco È È giusto Proprio L'obiettivo È proprio Portarti un film In cui Se ti interessa L'argomento Sprezzi di gioia Proprio come me Se non ti interessa Comunque Ti sei guardato Un bellissimo film Che dici Cazzo Beh figo Figo Quindi qui direi Un 8 E Voto finale Quindi direi 8 preciso Ci vediamo Al prossimo video Che sarà Il doppiaggio Di Black Che 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 sma Non mi ricordo Che 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 Grazie.